E' una bella sbazzonina con quei capelli ragazzi, grazie! Bionda, puoi fare di meglio! E' molto bene! Grazie! E ragazzi, lo vogliamo fare un po' più forte? E siamo tutti pronti e le mani al cielo! E' un po' più forte! E' un po' più forte! E' tutto ok? E facciamoci sentire! L'Uno! E' un po' più forte! E' un po' più forte! E poi questa bella signorina la consentiamo subito. Questo è stile. E' molto bene ragazzi. Game over. Allora rientra ragazzi, un po' ballo. E da questa parte vicino ragazzi, grazie. Grazie.